E' molto presto, BMW X2 e company dovranno guardarsi le spalle, perché anche i giapponesi di Lexus, il marchio di lusso di casa Toyota, hanno presentato la loro SUV compatta di lusso che si chiama UX, ispirata a una concept car che era stata presentata qualche tempo fa. E devo dire che la prima notizia è buona, perché rispetto al prototipo le forme si sono mantenute abbastanza simili. E lo vediamo subito dal frontale, che è assolutamente in stile Lexus, con forme molto molto originali, la classica calandra, crescita, rovesciata, molto più esasperata. Fari full LED, prese d'aria un po' dappertutto, insomma di sicuro l'originalità qui non manca. Ma volevo portarvi anche dietro a vedere com'è fatta questa B-SUV, intanto la fiancata, i passaruota sono molto particolari, mi ricordano un po' quelli delle Jeep, perché sono molto squadrati, danno un po' idea di fuoristata. Io qui ho l'allestimento F-Sport, quindi quello più sportivo. Ma andiamo anche dietro, Nicolò secondo me è meglio se scende, così ci fa vedere la macchina più da lontano e noi abbiamo meglio l'idea di come è fatta, perché anche il posteriore è ricco di originalità e lo vedete subito da questo gruppo ottico tutto unito, che si illumina con una firma luminosa notturna molto particolare, resa possibile da 120 LED tutti uniti. Ma già che siamo qui e ce l'abbiamo tutta per noi, saliamo anche a bordo di questa nuova UX per vedere com'è fatta. Ah, ed eccoci qua a bordo. Beh, insomma, ritrovo un po' l'impostazione delle ultime Lexus a partire dalla SUV compatta, ma più grande della UX, cioè la NX, però è tutto decisamente più moderno. Intanto il display centrale, ora a sviluppo orizzontale, è molto ampio e la strumentazione qui davanti a me è completamente digitale, un po' come vuole la moda del momento. Sempre qui i ripiani, un po' a pianoforte, a cui ci ha abituato la Lexus, bellissimo l'impianto Mark Levinson, suonano benissimo su queste Lexus, tra i migliori che abbia mai provato. Vedo però una cosa che non mi piace ed è il solito sistema che hanno sviluppato i giapponesi per l'immissione dei vari comandi nel sistema multimediale, che ha questo pad che di solito non ho mai trovato molto intuitiva, soprattutto durante la guida. Ma quando la proveremo, insomma, vedremo un po' se il sistema è migliorato. Mi piacciono però tantissimo i materiali di questa UX, perché i sedili F-Sport sono davvero sportivi, non sembrano quelli di una SUV e la pelle è davvero morbida e anche qui sulla plancia ho sempre materiali nobili con impunture a vista. Quindi ben fatto, mi piace davvero l'abitacolo di questa giapponese, con un gusto devo dire molto nipponico e insomma a chi piace il genere potrebbe trovare sicuramente delle sorprese. Ma cosa si nasconde a livello meccanico sotto questa UX? Beh, sicuramente due notizie importanti. Una piattaforma nuova, completamente nuova, per vetture compatte e questa è la prima auto che nasce su questa piattaforma GAC, mi pare che si chiami. E per quanto riguarda le motorizzazioni, scordatevi ovviamente il diesel, perché siamo sempre in casa Lexus, ma abbiamo un 2.000 a 4 cilindri a benzina, in linea ovviamente, turbo, da 168 CV se non erro, ma bisognerà vedere poi se verrà portato effettivamente in Italia, perché sapete che Lexus in Italia ha solo modelli ibridi. E poi la motorizzazione invece, quella più interessante per noi italiani, che è quella che vedete qui, la 250 H, quindi hybrid, che monta sempre un motore a benzina, termico, 2 litri però, di nuova generazione, abbinato al sistema ibrido Toyota Lexus, diciamo di quarta generazione, per una potenza complessiva di circa 176 CV, quindi con la solita trasmissione ECVT, che piace tanto a chi guida tanto in città, anche perché abbatte molto i consumi. Intanto vediamo la fiancata di questa SUV super originale, ma voi mi dovete dire come vi è sembrata, se vi è piaciuta e se osereste tanto, o invece se vi rientrereste su qualcosa di molto più classico, alla tedesca. Raccontatemelo nei commenti qui sotto, ciao alla prossima auto!